Un luogo dove poter giocare, coltivare l'orto, accudire gli animali, ma soprattutto socializzare, stendendo una mano a chi ha bisogno. Tutto questo è il Giardino della Misericordia, il progetto che la Confraternita della Misericordia di Roccasecca ha creato in Biarno, un luogo di accoglienza e di aggregazione. Un pacco per i ragazzi di tutte le età, ma anche per le persone adulte, perché diverse sono le aree. Attualmente c'è l'orto, il pollaio, l'aria giochi e poi c'è spazio per tutti i ragazzi che vogliono recarsi in struttura, a dare una mano con l'obiettivo di far crescere giorno dopo giorno questo progetto, perché oggi quanto mai c'è necessità di misericordia e di volontariato. Innanzitutto grazie ai tanti volontari, a questo splendido mondo che fa tantissimo per il prossimo, che si mette in gioco sulla solidarietà, le pari opportunità, sul aiuto e il sostegno ai più deboli. E' quello del quale una società, fino a qualche mese fa, abituata a produrre diseguaglianza al suo interno, che improvvisamente si è trovata senza tante certezze, ha bisogno di alcuni punti fermi. Le misericordie hanno dato davvero quest'idea. Inaguriamo questo inizio di giardino, che è proprio un prototipo di cosa dovrebbe essere la nostra società, quindi una società aperta, accogliente, che guarda alle pari opportunità. Qui ci sarà molto lavoro per i ragazzi con disabilità, è un giardino che spinge molto alla cura del verde e soprattutto è un giardino che anche ricorda a memoria di tutto quello che è stato un po' un percorso della violenza contro le donne. Quindi sono varie intersezioni di temi che vivono in questo giardino. Le nostre porte sono aperte a tutti, per i ragazzi di tutta l'età, anche per le persone adulte, perché abbiamo creato delle aree. Attualmente c'è anche l'orto, il pollaio, cioè un qualcosa dedicato a tutti i ragazzi che vogliono venire in questa struttura e darci una mano.